Se il lasciapassare dovesse diventare obbligatorio anche per gli spostamenti tra regioni causerebbe forti disagi a tutti i cittadini di quei paesi come Castelvetro e Piacentino che si trovano al confine tra una regione e l'altra. Per ora sembrerebbero tre le ipotesi prevalenti sul lasciapassare. La prima è quella di consentire lo spostamento almeno in una prima fase a chi presenta un certificato ASL o un'autocertificazione che attesti i requisiti richiesti. Tra questi quella di aver fatto il vaccino, essere guariti dal covid-19 oppure presentare un tampone negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio. La seconda ipotesi è quella di un tesserino sanitario sul quale verrebbero caricati i dati. L'ultima ipotesi è quella della realizzazione di una tessera sanitaria. I cittadini dei paesi confinanti vedono questa decisione come un ritorno al medioevo. È un'assurdità secondo me per quanto riguarda la questione lavorativa. Dovrebbero cercare comunque un'altra soluzione. È un'assurdità nel senso che noi purtroppo gravitiamo su Cremona quindi abbiamo necessità quotidiane di arrivare a Cremona. Nel caso il passaporto dovesse diventare obbligatorio i più penalizzati saranno nuovamente i commercianti ormai ridotti allo stremo. Noi viviamo l'assurdità di essere esattamente sul confine. Noi facciamo viaggi quotidiani allora. Cioè noi ci alziamo la mattina e facciamo il viaggio per andare in banca, facciamo il viaggio per andare al supermercato perché noi viviamo a Cremona. Per noi è comodo rivolgerci a Cremona. Praticamente questa qui è una schiavitù. Oltre il coronavirus c'è gente che muore proprio per la vaccinazione perché qui a Cremona un finanziere di 27 anni appena fatto si è sentito male è morto. Dicono che gli è venuto un infarto. Ha 27 anni? Anche secondo l'avvocato Rosarita Mannina rendere obbligatorio il lascia passare sarebbe una violazione dei diritti sulla privacy. Queste sono le assurdità di una norma che ancora non vediamo perché è stato semplicemente detto in una conferenza stampa vedremo come sarà formulata. Certo se veramente fosse mantenuta nei termini generalistici come è stato illustrato sarebbe veramente una cosa abnorme, un obrobrio perché veramente oltrepassare di pochi chilometri il confine tra regione e un'altra dover avere un pass mi sembra veramente illogico e fuori da ogni senso.